Benvenuti tutti a San Giovanni Rotondo, grazie di cuore per aver accolto l'invito di Padre Pio a trascorrere una giornata qui, vicino a lui. Un incontro di riflessione, preghiera e fraternità, dedicato agli artisti, gli sportivi e i professionisti della comunicazione, con i confratelli di Padre Pio da Pietrelcina, nei luoghi in cui il Santo Stigmatizzato ha vissuto e celebrato e che oggi custodiscono le sue spoglie mortali. Lunedì 5 settembre a San Giovanni Rotondo, la Fraternità dei Frati Minori Cappuccini ha accolto numerosi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, cultura e musica, giunti nella città di San Pio, per vivere insieme la prima giornata di spiritualità a loro dedicata. Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, nel suo pensiero di benvenuto ha fatto riferimento alla vocazione profetica di ciascuno nel proprio ambito professionale. Come cristiani e battezzati sappiamo di essere re, sacerdoti e profeti. Credo che agli artisti questo terzo aspetto sia quello che incarna la loro professionalità e la loro vocazione. Mi auguro che questa serata, con quello che vivremo insieme, come le mediazioni che ascolteremo, ecco, ci aiutino a riscoprire tutti la nostra vocazione profetica, secondo le diverse categorie di cui siamo, e a trovare in Padre Pio un appoggio, ecco, che ci lanci veramente nella nostra vita. Il ministro provinciale dei frati Cappuccini in Sant'Angelo e Padre Pio, fra Maurizio e Placentino, nel suo saluto ha sottolineato il senso della giornata, definendola un dono per ciascuno dei presenti. È bello per noi, si vuole dare a questa giornata un tono di familiarità, ecco, quindi vivere in maniera semplice, nell'amicizia, ecco, cercando di dare quello stile nostro, francescano, cappuccino, anche a questo momento. Ecco, credo che l'intenzione di questa giornata è quella di darvi un regalo, no, vorremmo proprio che fosse così un dono, la possibilità di dedicarvi, di dedicare a voi stessi questa mezza giornata, un po' per incontrarsi, no, tra noi, tra voi, conoscersi, scambiarsi le esperienze e poi vivere, ecco, un momento di riflessione, un momento anche di ricarica. Questo vorremmo che fosse questa giornata. Questo luogo lo è sempre stato per tantissime persone, lo è ancora oggi. A concludere il momento dedicato all'accoglienza, le parole del sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti. Questa giornata di oggi è effettivamente una riflessione sull'essere umano e attraverso le sfaccettature che gli artisti sanno cogliere riflettiamo su noi stessi e facciamo probabilmente anche un passo avanti verso quella civiltà e quella organizzazione della comunità che soprattutto di questi tempi deve andare verso la pace. E io gli artisti li vedo, protagonisti assoluti di pace, perché propagano valori universali in cui ci possiamo riconoscere che ci fanno sentire bene e meglio. Arte, forma di evangelizzazione, il titolo della catechesi tenuta da Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del di Castero per l'Evangelizzazione. Fisichella ha snodato il suo intervento su due coordinate intrecciate costantemente, fino a costituire una sola direzione, l'esigenza dell'uomo e la natura della Chiesa. In ogni persona, ha detto il presule, è racchiuso quel desiderio inestinguibile di amore che ha bisogno necessariamente di esplodere e di ritrovarsi esplicitato nel momento in cui incontra la bellezza. La via della bellezza, attraverso la quale l'arte si esprime, è una via privilegiata di evangelizzazione. Nel suo intervento, poi, Monsignor Fisichella ha accennato all'attenzione di numerosi pontefici per il mondo dello spettacolo e dell'arte. Paolo VI aveva molta sensibilità nei confronti dell'arte. Poi ricordiamo Giovanni Paolo II che non solo ha scritto dei drammi, ma li ha anche recitati. Lui è nato, in qualche modo, in teatro. Non dimentichiamo la sensibilità di Benedetto XVI per la musica. Lui stesso ogni giorno si dilettava a mantenere in esercizio le mani, le dita, suonando il pianoforte. E non dimentichiamo che qualche giorno fa Papa Francesco, anche lui, nella casina Pio IV, nei giardini vaticani, ha incontrato alcuni vostri colleghi che venivano da diverse parti del mondo. Si è poi soffermato su due parole, stupore e meraviglia, che sono la base dell'inizio di una nuova conoscenza. Abbiamo bisogno, quindi, di mantenere vivo quello che è lo stupore, la meraviglia per l'arte. Queste sono le due condizioni perché ci sia sempre nuova conoscenza. Stupore e meraviglia. Come dicevano gli antichi filosofi, stupore e meraviglia sono l'inizio di una sempre nuova conoscenza. Lo stupore è quello che ti fa percepire il fascino di un qualche cosa che è lì davanti a te e che chiede di essere rappresentato. Chiede che tu gli dia voce, che tu sia creativo. E qui, vedete, viene l'esperienza dell'artista. Perché in qualsiasi ambito l'artista si confronta, ha sempre bisogno di pensare, di essere creativo. Con un riferimento al Santo di Pietrelcina ed uno speciale augurio a tutti i presenti, ha concluso il suo intervento. Io ogni volta che vengo qui, ve lo confesso, a San Giovanni Rotondo, che mi trovo lì davanti all'urna di Padre Pio, io penso sempre questo, il mistero di quest'uomo. Che cosa c'è stato in quest'uomo? Ma lo penso anche davanti a Bernadette quando vado a Lourdes, o a Giacinta, Francesco, Lucia, quando sono a Fatima. Che cosa c'è stato? Cosa c'è stato? E vedete, c'è il müein, c'è il rimanere in silenzio. Ma il silenzio provoca la riflessione. Il silenzio provoca la preghiera. Il silenzio provoca la contemplazione. La bellezza è ciò che ti restituisce serenità. E allora, vedete, la capacità di esprimere, come voi fate, secondo tutte le espressioni che avete e che mettete in atto, ecco, custodite la bellezza. E custodite la bellezza annunciando il Vangelo con la bellezza. Questa è la responsabilità che appartiene a ogni cristiano, ma appartiene in modo particolare a un artista quando prende in piena considerazione ciò per il quale lui dedica la propria vita. Padre Pio e gli artisti, il valore di un'amicizia, è il titolo della catechesi di Fra Luciano Lotti, il cui intervento è stato un percorso nella vita di Padre Pio intorno ad una parola, condivisione. Quello che colpisce di più soprattutto è che Padre Pio ci teneva che tutto il mondo dell'arte, non solo quello dello spettacolo, ma tutto il mondo dell'arte fosse veramente al servizio dell'uomo. Fra Luciano ha messo in evidenza la grande capacità che ebbe Padre Pio, attraverso dei veri legami di amicizia, di coinvolgere tante persone del mondo dell'arte e dello spettacolo ad un cammino di approfondimento della loro esistenza. In questo senso Fra Luciano ha declinato il tema intorno ad alcuni concetti, la condivisione nell'ascolto, negli affetti, nella sofferenza, nella missione, nella misericordia. Con ricordi e aneddoti legati alle varie personalità che il santo di Pietrelcina ha incontrato a San Giovanni Rotondo. Quando una volta, sempre nei miei confronti con mio padre, perché poi mio padre era il grande devoto di Padre Pio, io ero un po' il prete giovane che doveva contestare, che fortunatamente aveva la mia testa, una volta gli fece proprio questo argento, ma è possibile che Padre Pio, anche nella gestione dell'ospedale, sia sempre servito di persone che spesso non erano all'altezza. E mio padre diceva, guarda che Padre Pio non misurava la sapienza umana, ma misurava la fede. Dice, sì, c'erano persone imperfette, però quelle persone avevano lasciato tutto per stare vicino a Padre Pio. Si erano fidate di un progetto più grande di loro. Ecco, io direi che forse questo è il grande messaggio di Padre Pio, non è tanto sradicare tutto, ma fidarsi di un progetto di Dio che è più grande del nostro progetto. Alle 18, nel santuario di Santa Maria delle Grazie, Monsignorino Fisichella ha presieduto la celebrazione eucaristica vespertina, anche in suffragio degli artisti che ci hanno lasciato in questi anni, tra cui gli amici Raffaella Carrà e Toni Sant'Agata. Ecco, domandiamoci, qual è il piano di Dio per ciascuno di noi? In che modo, partecipando all'Eucarestia, ascoltando, nutrendoci della parola di Dio, del suo corpo, del corpo e del sangue di Cristo, possiamo anche noi riprendere la nostra vita e conformarla a quello che è il piano che Dio ha per ciascuno di noi. La giornata si è conclusa con un intenso e suggestivo momento di preghiera nella Chiesa Inferiore che custodisce le spoglie mortali del Santo di Pietrelcina. Dopo una breve introduzione di Fra Luciano Lotti, la lettura di un passo del Vangelo e di una lettera tratta dall'epistolario di Padre Pio, c'è stato un momento di incontro e dialogo personale con i confratelli del Santo Frate. Ancora non esisteva uno E tutto quanto era scritto nel tuo libro... Grazie a tutti!